quando alcuni giornali avrebbe lavorato anche con Trump. Allora, la domanda che le dobbiamo fare è così, ha lavorato con qualcuna di queste celebrità, perché queste sono le notizie che circolano su di lei. Prego. Allora, datemi 40 secondi. Punto uno, le celebrity che parlano i giornali non sono dette da me. Punto due, io non posso dire, e qualcuno, Giletti, lei lo sa, di persone a cui ho curato la comunicazione, ma non li posso dire qua in televisione, ho dei contratti che fanno sì che io non posso dire se ho lavorato o meno con un personaggio. Punto tre, lavorare con un personaggio. Ho chiesto 40 secondi per parlare. Assolutamente, signor Telese, non curo la comunicazione di Trump. L'hanno scritto i giornali, l'hanno scritto i giornali. Trump fa i tweet da solo, anche dall'ospedale. Ecco, venga a rispondere, Scarcella, risponda. Quello che volevo farvi notare, che lavorare può essere, può essere capitato, che oltre allo scherzo, attenzione allo scherzo, che mi hanno fatto le iene, per il quale mi hanno poi rigirato contro nel servizio che avete visto, io spesse volte ho detto, può essere capitato più che spesse volte, ho detto lavoro con questo cliente piuttosto con quest'altro. Sapete perché? Perché c'è un'invidia in questo settore, che è come quella dell'ambiente televisivo, che spesse volte capita quello che a me è successo. Quindi, che sono stati contattati ogni singolo cliente, che le iene erano al corrente, dicendogli, ma tu lavori con Mirko? Mirko è un truffatore, sta uscendo una bomba su di lui alle iene. Stai attento. E sapete quanti clienti ho perso per questo? Qualcuno, qualcuno mi è rimasto fedele, perché sa il lavoro che faccio e la passione che ho dietro il mio...